Salve a tutti amici di HorrorItale24, il vostro Filippo Ferenza qui con un nuovo unboxing come niente dalla fantastica Warner Bros. Ed eccolo qua in bella vista il pacco inviatoci dalla Warner Bros che come sempre ringraziamo che non sappiamo veramente che cosa contenga nel vero senso della parola è sempre una sorpresa quando ci inviano del materiale quindi aprendo la busta vediamo un cappellino che è già un grandissimo suggerimento già dalla scritta Fight altro grandissimo suggerimento piccolo box con questa fantastica scritta Mortal Kombat 11 che al suo interno contiene sembra essere una sorta di portaghiaccio un design che richiama ovviamente quello di Sub-Zero ebbene sì una copia del grandissimo Mortal Kombat e finalmente anche noi siamo riusciti ad avere la nostra copia di Mortal Kombat come ho detto prima uno dei film che forse aspettavamo di più che finalmente arriva in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook, 4K Ultra HD dal 7 luglio il film è già disponibile per l'acquisto digitale su tutte le piattaforme possibili ed immaginabili come Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play, Team Vision, Chili Rakuten, PlayStation Store e Microsoft Film TV nella copertina principale possiamo trovare la fantastica scritta Mortal Kombat con uno dei design forse più famosi della storia dei videogame e non con lo Young da un lato mentre dall'altro abbiamo Sub-Zero dietro possiamo trovare di tutto di più ovvero Get Over Here una piccola trama ovvero il campione di MMA con lo Young deve allenarsi duramente per sbloccare il suo vero potere schierarsi a fianco dei più grandi campioni del pianeta contro i nemici dell'Outworld in una battaglia decisiva per le sorti dell'universo abbiamo un bel po' di contenuti speciali come ovviamente le scene eliminate From Game to Screen, The Making of Mortal Kombat Mortal Kombat Fat Favorite Characters Coreography, Into the Crypt, Easter Eggs of Mortal Kombat Anatomy of a Scene e ben 7 Feature 8 in basso possiamo trovare un bel po' di immagini tratto ovviamente dalla pellicola della durata di 109 minuti Dolby Atmos 1080p High Definition in 16 noni aprendo invece il nostro Amarei possiamo trovare all'interno il nostro fantastico disco tutto nero con la fantastica scritta Mortal Kombat in un design veramente pulito e fantastico invece qui accanto possiamo trovare anche una fantastica card dove ci scrive Scopri l'esperienza definitiva di Mortal Kombat 11 Ultimate ci sottolineano che è disponibile per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X Nintendo Switch e Stadia quindi noi della redazione di Horror Italia 24 ringraziamo tantissimo la Warner Bros. per averci inviato questo fantastico pacco noi invece ci vediamo la prossima volta con un nuovo unboxing scriveteci qua sotto nei commenti se anche voi avete acquistato la vostra copia Mortal Kombat seguiteci su tutti i canali social e in particolare sul nostro sito www.horroritalia24.it e ciao!